Bella a tutti Benvenuti in questo nuovo video Oggi stiamo andando a fare un giro abbastanza diverso dal solito che non vi ho mai portato sul canale cioè andiamo al Ticino che è un giro diverso dal solito perché oltre a non aver velo credo si dica così mai portato eppure appunto un luogo diverso dal solito perché rimango sempre qui a busso nei dintorni oggi siamo usciti molto presto perché io mi sarei svegliato tranquillamente alle 10 però mio fratello mi ha svegliato non so a che ore mi ha detto dai Ale andiamo a farci un giro in moto quindi vabbè dove l'ho trovato un fratello così l'ultima volta che sono andato al Ticino non è stato proprio un tocco di classe perché c'era un autovelox e io con i miei compagni non l'avevamo visto quindi diciamo che avete capito dai abbiamo una polizia davanti dove? ok tiriamo sullo specchietto oddio si so ma che spero non si senta tanto la moto che so che si sente però vabbè dai ben ti prego poi in altra strada non voglio andare dietro oh che bravo che sei no no pensavo andassi dritto ah comunque per chi non l'avesse ancora capito oggi sono in giro con mio fratello e sto usando la moto di mia sorella che è un Kawasaki Z125 qualcosa non non so di preciso il modello ti prego però non fermarmi per forza questa strada dovevi fare sai che io non ho buoni rapporti con la polizia eh io devo andare piano perché sennò mi sentono subito cioè mi avranno già sentito e guardato però vabbè spero non mi fermino poi se mio fratello va avanti io ho i suoi documenti quindi diciamo che non è oddio se ferma quello con la macchina davanti che ha il baule aperto no se no se lo ferma ci gode un botto si zio ma non puoi andare ai 30 all'ora ho capito che c'è il baule aperto però no perché non lo fermi se fossero stati quelli non dico il nome se no poi magari succede qualcosa l'avrebbero già fermato gli avrebbero fatto una multa e sequestro tolto la patente tolto il diritto di nascere di vivere di tutto questo no lo fa andare tranquillo perché non abbiamo la polizia così noi la nostra città cambia strada ben io spero tanto che non ci siano autovelox se no tanto la multa la faccio pagare a te quindi la fine abbiamo montato solo frizione paracolpi paramotore mamma mia mi sono spaventato a morte vai ma va ma un cucciolo se supera mio fratello in quel modo madonna se supera mio fratello in quel modo gli tira giù lo specchietto eh non tentavo anche di superarlo si beh aspetami però ah comunque questo è il ticino faccio un po' di cultura generale no parlo con la con i miei iscritti e anche il ticino è nato nel ma perché è nato il ticino è un fiume che sfocia nel mar adriatico atlanto nel mar atlantico ma no non esiste il mar atlantico vabbè sfocia basta cos'è che c'è altro da aggiungere che c'è che c'è